Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale! Allora oggi siamo tornati per la seconda parte della sfida squadre. Abbiamo quattro nuove sfide e abbiamo già diviso le squadre. Quindi Bianca presenta la squadra verde. Allora ci siamo io, Bea e Noemi. Ok, mentre invece Mary presenta la squadra viola. Ci siamo io, Lucy e Dania. Ok, chi pesca la prima? Dai fate pari o dispari, Anna e Noemi. Vai. Prima devi decidere chi schierare. Visto che sono quattro sfide, oggi avete solo una possibilità per cambiare. Chi hai scelto? Bianca. Vai. Bianca contro Anna. Salti fune doppia. Chi ne fa di più, vince. Parte Anna. Via. Uno, due, tre, quattro, cinque. Cinque. Uno, due. Due. No. No. Un punto per la squadra viola. Prima pescato Bea, quindi pesca Lucy. Però decidete chi schierare prima. Io. Tu ti schieri? Schiero, vabbè. Ok. Allora, numero anche di seguito, senza lasciare la coda. No, no. Mi piace la coda. Se vuoi cambiare, potete cambiare. Avete un cambio, eh? Uno, solo. Pronta Lucy? Sì. Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Sette. Pronta? Via. Uno. Due. No. Sì o no? No, caduta la bacchetta. Niente. Due. Quindi, secondo punto per la squadra viola. Decidete chi schierare. Mary è bianca. Va bene, voi? Non cambiate? Ah, ma non ti eri schierata tu? Ah, ok. Non avevo capito. Scusatemi. Vai. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undeci. 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 Dodici. Tredici. Quattordici. Quindici. Sedici. Sette. Non vale. Quindi, sedici. Vai, Mary. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. Dodici. Non vale. È rimbalzata. Niente. Primo punto per la squadra verde. Ultima sfida. Così vediamo se è un pareggio. O se è una vittoria schiacciante per i viola. Chi schierate voi, Anna? Anna contro? Noemi. Chi schierate. Chi schierate. Se volete potete cambiare. Cambiate o rimanete così? Cambiate? No. Cambio nella squadra verde. Tocca la terra. Non sarebbe valida perché ha toccato terra. Devi rifare. Ha toccato. Ha toccato il soffitto. Vai, Bea. No, peccato. Niente. Vai, Anna. Vieni più avanti, vieni più avanti. No. Di nuovo, Anna. Due capovolte. Due capovolte. Niente. Due capovolte. Due capovolte. Due capovolte. Vieni più avanti. Vai, Bea. No. Ha toccato? Dai Non ha toccato Niente? Anna No Peccato Secondo punto per la squadra verde Questa sfida si conclude in parità Iscrivetevi al canale Lasciate un like E accendete il like Faremo le prossime quattro sfide Ciao Ciao Ti mando un saluto Grazie 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 Grazie